Ciao ragazzi, ben ritrovati all'interno di questo nuovo video di Fall Guys Lo scorso episodio consisteva in una vittoria Spero che l'abbiate visto, se non l'avete visto lo state nelle schede e cliccate di qua in alto E oggi si parla di impostazioni, si parla di quali sono le migliori impostazioni, i migliori comandi da utilizzare all'interno di Fall Guys E insomma, ragazzi, di contenuti ce ne sono abbastanza, però voglio subito iniziare con questo episodio qua Che secondo me può essere un po' utile a tutti Voi però mi raccomando, come al solito, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like Insomma, voglio vedere un po' di supporto goloso da parte vostra, perché sennò poi, capito? Ecco, insomma, voglio vedere un po' di supporto goloso E iscrivetevi, attivate la campanella tutti i giorni alle 14 Insomma, trovate comunque i miei link utili qua sotto in descrizione Ci sono un po' di robe particolari e dai, insomma, ecco Allora, entriamo subito all'interno di Fall Guys Perché, come al solito, il contenuto è questo Si parla di impostazioni Innanzitutto bisogna capire dove giocate Se giocate da Playstation o se giocate da PC Insomma, se giocate da PC le impostazioni che vi consiglio per risparmiare un po' Sono le impostazioni del monitor, io ho messo questo Personalizza, naturalmente Ho messo 60 Hz, anche se in realtà posso giocare a 144 Senza nessun tipo di problema Finestra disattivato Sincronizzazione verticale L'ho attivata Dettagli trama Potete mettere anche, volendo, bassa risoluzione Che non esiste, quindi media risoluzione Dettagli ombra Bassi, medi, alti Ho messo bassi L'effetto mosso Sono tutte delle cose in più Queste qua La lone, la profondità del campo Sono tutte cose in più Che sta poi voi scegliere cosa capire L'occlusione ambientale potete mettere l'MSVO Ma io vi consiglio nessuno Come il filtro anisotropico Che invece io ho tenuto attivato per adesso Ma l'anti-aliasing, per esempio Ve lo fa partire con SMA a basso Ma io vi consiglio vivamente di mettere nessuno Come tutto il resto delle cose Riguardo invece all'audio In sé per sé L'audio, ragazzi, vi consiglio di togliere queste Musichette qua Che sono veramente noiose Tenere soltanto gli effetti che sono quelli utili Vi consiglio di disattivare l'audio in sottofondo E togliere tutte queste impostazioni aggiuntive Valorde E soprattutto la chat vocale, ragazzi Tenete la porcaccia bislacca Non attivata ma disattivata, mi raccomando Per quanto riguarda controller e tastiera Farò un video a parte Proprio per parlare dei migliori comandi da utilizzare Sia per tastiera che per controller Questo qua è il tutorial che vi spiega un po' come si fa a giocare Poi c'è l'assistenza C'è il riconoscimento E c'è il profilo Che bisogna collegare poi eventualmente Con l'account Amazon O cose particolari Non voglio perdere troppo tempo Ma voglio subito andare a fare Una piccola partita di divertimento con voi Per andare a magari replicare la vittoria dell'altra volta Cosa che reputo abbastanza complicata In quanto il Vapor dovete sapere che Su Fall Guys È veramente una capra Ma di quelle capre che neanche le peggio capre Per farvi capire il giro di parole che ho appena fatto Ma vi posso assicurare che È purtroppo così Ma non fa niente Noi ci accontentiamo di quello che abbiamo 58 su 60 Ti prego droppami questa partita Che la voglio fare in maniera importante Ti prego droppami la partita Che non ho voglia di Perder tempo Lo sa sai Ti prego droppami Sì Niente Ok disco vertigo Ci siamo Ragazzi il disco vertigo È mio È mio Ve lo posso assicurare È mio Non abbiamo problemi in questa mappa qua Il vertigo è proprio nostro Nel chill proprio Capito No problem per noi Dai Ti prego starta sta partita Prima che inizio di inalberarmi il cervello Grazie Ok Disco vertigo Perfetto Visione alta di tutto Ci siamo Arriviamo Primi Ve lo dico io Il primo posto Siete pronti a vederlo? Bene Se non siete pronti ragazzi ve lo dico Tantemi pronti Allora Subito mettiamo la visuale in maniera importante I nomi non mi interessano attualmente averceli Col tasto R2 vi ricordo si drop Si blocca Adesso Primo saltellino da qua Easy Saltellino volante Altro saltellino volante Attenzione come se la gira al vapore Segue tutti comunque tutti i cerchi E riesce a portarsi a casa Easy il primo checkpoint Adesso Saltellino di qua Non proprio bene Ma va bene comunque Evitiamo palloni Evitiamo palloniz Saltellino di qua Ok Nel chillungs Ok Prima che arrivi la nuova palla Siamo arrivati in tempo noi Perfetto E adesso qua non dobbiamo farle cavolate Perché primo salto per noi Secondo salto per noi Terzo salto per noi Porca l'orca Sorca Ok Ci siamo Ci siamo passati Siamo passati nel chill E adesso qua arriva la parte un po' più complicatella Perché dobbiamo fare il salto qua Perché innanzitutto Se non fate il salto vi prendete le pizze Ve lo dico già Perfetta la giocata del vapore così E addirittura il vapore si qualifica con un'ottima posizione L'orca porca L'orca E si 25esimo per il VAP Comunque una qualifica Tranquilla Senza Senza far troppo Il coso Ma si fa Qua ci sono dei fagiolini Che veramente Non hanno più idee E la partita finisce adesso Quindi 19 persone che vanno out Anzi noi eravamo 58 Quindi ben 17 Soltanto le persone che vanno out E via Cadono giù come dei fagioli Veramente 41 qualificati Ti prego droppami una mappa Che ho delle idee chiare Perché se non ho delle idee chiare Mi metto a piangere Ci sono Ci sono Pronto La mappa Pronto per favore Ok E ora inizia Ok Olè Ti prego mappa decente Circuito ad alta velocità Mai fatto in vita mia Nuova mappa questa qua Sono le nuove mappe Quelle un po' più Infamoidi Perché Da quelle che ho visto Queste mappe qua Sono quelle che ti fanno Scorrere come dei draghi Quindi Mi sa che il Vapor riuscirà Non riuscirà Ad avere la meglio All'interno di questa mappa Ma fa niente Vediamo un po' L'app come funziona Non ne ho un'idea So che questi Turbolini lì Queste solite di ferri di cavallo Se ci entri dentro Ti danno un boost enorme Siamo comunque primi Non vorrei Non vorrei Assolutamente Specificare la fortuna Che mi ha detto Comunque Piccolo salpellino De qua Attenzione Che subito iniziamo Con un grande Con un grande Martellozzo Style points Mentre mi arrivano I grandi cosi Perfetto Perfetto Un Vapor veramente Che prende Palli in faccia Come non mai Non vorrei neanche commentare Perché è meglio Non commentare In questi casi Ogni tanto Possiamo evitare Di prendere pali in faccia Grazie Ok Devo assolutamente Cambiare comunque Le sensibilità Perché no C'è qualcosa Che non va Assolutamente GG per il Vapor Che passa comunque In mezzo Poco da fare Martello volante Che ti tira le pizze Saltellino Là in mezzo Easy Vabbè dai Vabbò Dai C'è Vabbè dai Ma non ci posso credere Ma che è Ma che stai dicendo Ciao Ho finito ragazzi Vi dico soltanto questo Questa non è mai Una qualifica Mai nella vita Proprio Ok ho finito Adesso il giro Easy Easy Altro girettino Si passa nel chill La virata da questa parte Di qua Altra virata Per il Vap Altra virata Per il Vap Easy Altro saltellino Attenzione che stanno Finendo già i primi Le prime personcine E qua non è una Bella storia Ecco Sono riuscito Comunque a qualificarmi Adesso bisogna Vedere qua Ma 19 su 25 La vedo veramente male Diciamo che la qual Era lì Era lì Era molto lì la qual Purtroppo Purtroppo era molto lì la qual Niente da fare Siamo fuori Ma fa niente Abbiamo provato comunque Le nuove impostazioni Che devo dire Che non so niente male Bisogna un attimo Modificare poi Le sensibilità Ma saranno l'argomento Di un altro video Per quanto mi riguarda Perché oggi Va bene così Va bene così Va bene così Assolutamente Assolutamente Il video termina qua Noi ci vediamo domani alle 14 Con un nuovo video Di Stumbleguy Trovate tutti i video Precedenti di Fall Guys Qua nelle schede cliccabili Ciao belli Un bacione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti